bentornati a tutti ragazzi oggi siamo tornati con minecraft e come avrete letto dal titolo oggi costruiremo me stesso mi devo costruire comunque ragazzi guardate sto cercando di migliorare sempre di più casa mia beh per ora non è finita ma finirà ben presto ora intanto ci mettiamo in creativa perché se no ci mettiamo due anni a costruirmi vai e creativa creativo ecco e ok mi spariscono sempre le pecore cioè le mucche c'è una mucca e una pecola ma che cacchio è successo qua senti famo che vuoi entra pure te levati beh ciao e buonanotte ok raga e devo individuare un punto qua sì qua può andare bene dai non è un po' troppo all'interno dal villaggio oh che cavolo ma dai facciamolo qua va bene qua va bene qua allora intanto vediamo raga come è fatta la mia skin allora inizialmente ha delle scarpe bianche che le potremo fare con il quarzo sì e ok facciamo tre per tre due tre un due tre così no così ok poi ma dovrebbe essere quattro però facciamo facciamo non di spaccare aiuto poi era fatto così ok prima scarpa riuscita ok ok ora devo individuare dove fare l'altra no ce l'appiccicate ok vabbè io le faccio un po' di staccate perché proprio appiccicate è brutto vabbè io le faccio un po' di staccate 3 4 1 2 e sì basta 1 2 3 così bene perfetto e adesso devo fare la cosa qua no qua ma non ho fatto uno più grande no mi è sembrato ok poi ci serve il quarzo non quarzo un blocco nero tipo bo lana c'è lana serve la lana serve la lana lana ok mi serve no 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 mi serve questa e questa inizialmente dovrei fare il contorno bene e basta poi vabbè non ho questa più scuro non ho visto bene ah ok non così no così così faccio così poi devo salire non so quanto lo potrei fare grande e a finire solo le gambe beh non quasi dopo 3 in realtà ecco vi piacciono adesso tocca alla pancia ok è difficile è un po' difficile la pancia da fare però credo che ce la posso fare sì è un blocco in più così aiuto aspettate così così che sporge un po' fuori vedete guardate la mia skin un po' sporge fuori ok 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 perfetto allora adesso devo fare il contorno no è tutto grigio poi non proprio tutto però quasi tutto ok devo usare il grigio però quello più chiaro ora mi serve ok è Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. ci va. serve la lana. Grazie a tutti. Aspettare. ok. Grazie a tutti. No, no. Le braccia. Le braccia. Le braccia. le braccia. Aspettare. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. o non ha preso il rosa che inizialmente così di due facciamo raga oh che cavolo perfetto guardate raga come sta prendendo forma e ora sembra che qualcuno mi ha tagliato la testa è rimasto solo il collo allora è così devo salire di due mi abbasso aspega che cavolo aiuto 1 2 3 di tre mi sposto su perché dire che ci sta ma giusto e ok questo 3 ma il terzo hanno aggiunto questa mia cavolo raga è difficilissimo la faccia mi alzo e mi abbasso è così no così poi mi devo solo alzare basta si devo solo fare così ok sta venendo davvero bene beh ora sembra che è una mezza faccia però allora adesso devo prendere il bianco e tracciare così l'occhio poi di verde anche anche il verde ok raga davvero mi sta piacere molto davvero bello secondo me poi che ora dovrei fare i capelli così 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 allora no dai ti prego non ti sbagliare così ok poi dovrei fare in alto di 3 e in mezzo 1 2 3 e in mezzo perfetto ok stiamo procedendo bene ora 1 2 e in mezzo 1 2 1 2 1 2 poi no di sotto 3 Così E poi Mi serve Il grigio 1, 2, 3, 4 Devo fare così 1, 2, 3 4 Va bene Credo che per questo episodio L'intro non ce lo metterò Perché massimo di Circa 25 minuti Posso mettere l'intro Ma non lo so, vedete voi Se ho messo l'intro va bene Scusatemi perché il video era troppo lungo Se non l'ho messa l'intro Poi devo fare 1, 2, 3 E anche dall'altra parte Con il nero E al posto del bianco 1, 2, 3 E anche dall'altra parte 1, 2, 3 Perfetto 1, metto 1 Così Così E così Uno là e uno qua Ok Qua No No Qua E qua Così Perfetto ragazzi Stiamo per concludere E Di sotto I capelli Gli ho fatti Ok Solo quel ciuffetto Lì che sporge Gli ho fatto Poi 1, 2, 3 4, 5 Così 1, 2 No Che cavolo sto a mettere Se vabbè Fra un po' Vi faccio i baffi 2 1 3 4 5 Va bene Va bene Poi 2 in basso E un in basso Di là 1 2 E in basso Ci va Dopo 2 Quello là E qua C'è lo spazio Per fare L'altro occhio Però ora mi serve Il bianco Cavolo Bianco Posto del giallo No poi mi riserve Però vabbè Lo riprendo Ok Va bene Ora dovrei fare Ho finito Ho finito Credo No Sì Sì No Devo fare così Che c'è Resta con questo Coso Giallo Il posto del verde Faccio così Poi faccio Cosa Eh sì Raga sta benificissimo Poi devo fare il cappuccio Poi devo fare il cappuccio Fino al 2 Di quello là Deve arrivare So che non capito niente Di quello che dico Perché sto a parlare da solo Però Mi serve per fare i calcoli Eh sì 1 2 2 2 Così Poi raga Devo fare così Perfetto Però Ora non è che può restare Con la faccia così Aiuto Perché sembra che Che Se uno viene da questa parte Sembra una papera Infatti Sembra tantissimo Una papera Da così Raga E quindi Uno non può vedere Una roba così Del genere E dobbiamo Concluderlo Perfetto 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 Vediamo, ci assomigliano raga, un botto ci assomigliano, guardate, guardate questa, guardate questa, guardate ci assomigliano un botto, io sono Matti G.S., il re di questa città, guardate, mi hanno fatto pure una statua di dolore, perfetto raga, vediamo come si vede però dal basso, vediamo se si vede bene. No dai raga, si vede benissimo anche dal basso, guardate, tipo, se io vado un po' più qua si vede ancora meglio, guardate, si vede benissimo, raga, una figata pazzesca, pensate fare sta roba, che io ci ho messo una vita, più di un'ora, ma ho stoppato per voi, a farla in sopravvivenza, pensate quanto ci mettono, tre anni sul serio, vabbè raga, comunque, allora per questo video possiamo concludere, e allora ciao e al prossimo video, ciao!